Montecatini Terme, una cittadina tranquilla, forse troppo tranquilla per una gang di motociclisti nati nel posto sbagliato. Loro volevano correre con le loro moto, volevano azione, volevano rock and roll. Questa è una storia di violenza, abusi, rapimenti, un lungo viaggio per portare una vergine in dono a... Invocazioni, magia, ritmi sergici. Quello che loro chiedono in cambio al loro dio è il potere di controllare i cinque distruttori. E noi li chiamo... Balberga! Cabriera! Fiume è venuta! Binaria! Fiume è venuta! Los Dragos Così te per inizio a festini orgiatrici Droghe, sesso, depravazione Ogni tipo di nefandezze più avverranti Questi sono i Droghe, sesso, depravazione Droghe, sesso, depravazione Droghe, sesso, depravazione